Il nodo è il Senato alla richiesta di arresto per il senatore Nespoli e l'ennesimo atto di autoassoluzione della casta. I tale dei valori all'indomani del voto in aula ci va giù duro e punta l'indice contro il popolo della libertà, che come era prevedibile in calzoni di Pietristi ha reggettato l'istanza dei domiciliari per il parlamentare, che è anche sindaco di Afragola, istanza che la procura di Napoli aveva protocollato a Palazzo Madama lo scorso 14 maggio. Ma procediamo con ordine, dopo il voto espresso dall'Aggiunta per le Immunità e ha prodato in aula al Senato la richiesta di arresto per Nespoli, accusato di concorsi in mancarotta e riciclaggio di ingenti somme di denaro in relazione alla società di vigilanza privata La Gazzella, con sede da Afragola, il cui fallimento è finito appunto nel mirino della magistratura partenopea. La votazione al Senato di ieri, che si è svolta a scrutino segreto, si è risolta con 146 voti a favore, 99 quelli contrari e 10 astenuti. Il relatore del PDL, Mugnai, attacchi il caporuppo d'Italia dei Valori Berisario, si è arrampicato sugli specchi per provare a giustificare l'esistenza del Fumus Persecutionis. Ha cercato di entrare nel merito del procedimento, puntualizzando una serie di fatti ed episodi che invece non interessano all'Aula, dal momento che al Parlamento non è dato sindacare nel merito all'operato della magistratura, ma solo verificare se vi sia nei confronti di un parlamentare un intento persecutorio. In questo caso dall'intento non c'è, ma la casta ha deciso lo stesso di fare quadrato, così conclude Belisario. Dopo Cosentini, il PDL ha voluto salvare anche il soldato Nespoli, scrivendo un'altra brutta pagina della storia parlamentare. Mugnai dal canto suo dribbla le polemiche e insiste su un dato, per Nespoli non sustisse l'esigenza della custodia cautelare e la maggioranza compatta ha votato confermando quanto stabilito dall'Aggiunta per le immunità e lo scontro tra maggioranza e opposizione dunque continua. Grazie a tutti.